Questo è da sempre il loro modo di agire. Ma comunque non si può negare che spesso i cuori degli uomini vacillano. Se sai cosa ti aspetta, non temere. Vai, Ichigo! Avevi detto che ci avresti avvisato in caso di qualche problema. Tutto bene, Kurosan. Forza, Ichigo. Vai subito alla Soul Society. Queste due lasciale a noi. Devi cercare di salvare Toshiro. Arrenditi, Izugaia. Lo stesso vale per l'uomo dietro di te. Chi sei? Ho detto chi sei!